Proiezione è in sesta posizione che è quella occupata attualmente da Elisa Platino. C'è la caduta di Lara Colturi proprio nel finale. Speriamo sia tutto a posto, sembra... Aspettiamo. Un po' lunga di linea comunque... Guarda la neve. Diciamo sia un po' brutta facciata, però anche dopo... Comunque in piedi è un segnale.